Trattare tutti come se fossero positivi alla variante inglese è quanto stabilisce una circolare del servizio sanitario della regione che ha cambiato le modalità di lavoro sull'intero territorio. Infatti l'incidenza di questa variante è aumentata a dismisura e ormai, come ci ha riferito oggi l'epidemiologo Marco Pompili, è presente nel 96% dei campioni analizzati. Una situazione complessa che ha indotto gli esperti a correre ai ripari, a darne notizia il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azur, Area Vasta 1, Eugenio Carlotti. Questo ci comporterà dei cambiamenti organizzativi notevoli, molto impegnativi anche in termini di volume di lavoro e di ricadute sul personale, sia per quanto riguarda le indagini epidemiologiche che dovranno andare indietro di molto anziché delle 48 ore attuali, sia per quanto riguarda l'afflusso ai drive. Tipo questo che abbiamo qua dietro, perché pare che tutte le persone, parte delle quali venuti a contatto con casi di Covid positivi, attualmente escono con un rapido semplicissimo, con un test rapido, dovranno uscire dalla quarantena con un test molecolare. Per i tamponi questo cambia qualcosa? Per i tamponi cambia che se le indicazioni della circolare di questa mattina verranno confermate, il numero di soggetti che dovranno fare quotidianamente il test molecolare presso i tre drive Piesa Raffane Urbino dell'Area Vasta 1 potrebbe raddoppiare in termini numerici. Questo comporterà una mole di lavoro, come dicevo prima, notevolmente più elevata. Carlotti poi ha precisato che al momento le sedi vaccinali rimangono le stesse, ma non escluso che determinate condizioni possano essere aumentate. Buone notizie sono in arrivo per il punto allestito a Rosciano di Fano. Sì, al momento i punti vaccinali rimangono i tre che sono aperti, questo alle nostre spalle, che è il Codma di Fano, per ora con la parte a piano terra, che finora ha gestito brillantemente, direi senza particolari problemi, le categorie che hanno avuto accesso ad oggi. Quando partiremo con il resto della popolazione, che evidentemente ci impegnerà per tutta l'estate, è già subito pronta la parte superiore del Codma, in cui ci sono diverse stanze già sostanzialmente attrezzate e autosufficienti, per la quale abbiamo già trovato l'accordo con la protezione civile. Quindi Fano è a posto, Urbino abbiamo la sede che rimane al palazzetto, al Palacarneroli, stiamo valutando la possibilità di affiancare a questa sede o di sostituirla con una sede alternativa che potrebbe essere il bocciodromo, che però richiede alcuni interventi di manutenzione. A Pesaro invece ieri è partito il nuovo punto all'ex-Arristò all'interno del Rossini Center, che è andato a sostituire quello realizzato al centro sociale Monaldi. Ho appena chiamato per sapere come stanno andando le cose, le cose vanno molto bene, il punto risponde alle nostre aspettative in termini di gestione dei flussi, di comodità, di comfort per i vaccinandi e per i loro accompagnatori. È molto importante per noi avere un punto così potenziale in termini di numeri, perché lì potremo vaccinare fino e anche più di 1500 persone al giorno. Il discorso di aggiungere sedi ulteriori è un discorso che noi sostanzialmente condividiamo come aria vasta, a patto che ci venga messo a disposizione il personale necessario.